il treno suburbano s 9 24 1 0 0 di treno nord proveniente da milano porta garibaldi e diretto a saronno delle ore 5 e 44 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 11 25 0 1 7 di treno nord proveniente da chiasso e diretto a milano centrale delle ore 5 e 54 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma lissone moggio monza sesto san giovanni milano greco pirelli il treno suburbano s 11 25 0 1 6 di treno nord proveniente da milano porta garibaldi e diretto a chiasso delle ore 6 e 0 6 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 9 24 1 0 5 di treno nord proveniente da saronno e diretto a alba irate delle ore 6 e 0 9 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 11 25 2 1 9 di treno nord proveniente da como san giovanni e diretto a ro delle ore 6 e 24 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 11 25 0 1 9 di treno nord proveniente da como san giovanni e diretto a milano porta garibaldi delle ore 6 e 24 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma il treno suburbano s 9 24 1 0 2 di treno nord proveniente da milano porta garibaldi e diretto a saronno delle ore 6 e 26 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 9 24 1 0 7 di treno nord proveniente da milano porta garibaldi e diretto a chiasso delle ore 6 e 36 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 9 24 1 0 7 di treno nord proveniente da saronno e diretto a al bairate delle ore 6 e 39 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma lissone moggio monza sesto san giovanni milano greco pirelli il treno regio express 25 2 0 1 di treno nord proveniente da como san giovanni e diretto a milano centrale delle ore 7 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 11 25 2 2 1 di treno nord proveniente da al bairate e diretto a saronno delle ore 7 21 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 11 25 2 2 1 di treno nord proveniente da ro è diretto a como san giovanni delle ore 7 e 36 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 11 25 0 2 5 di treno nord proveniente da chiasso e diretto a milano porta garibaldi delle ore 7 e 54 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma seregno cantù cermenate il treno suburbano s 11 25 0 2 di treno nord proveniente da milano centrale e diretto a como san giovanni delle ore 7 e 56 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma seregno cantù cermenate il treno suburbano s 11 25 0 0 3 8 di treno nord proveniente da milano porta garibaldi e diretto a chiasso delle ore 11 36 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 9 24 1 2 7 di treno nord proveniente da saronno è diretto a alba irate delle ore 11 e 51 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 9 24 1 2 4 di treno nord proveniente da alba irate e diretto a saronno delle ore 11 e 51 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 11 25 0 4 1 di treno nord proveniente da chiasso e diretto a milano porta garibaldi delle ore 11 e 54 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 11 25 0 4 0 di treno nord proveniente da milano porta garibaldi e diretto a chiasso delle ore 12 e 0 6 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno suburbano s 11 25 0 5 3 di treno nord proveniente da chiasso e diretto a milano porta garibaldi delle ore 14 54 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni